La proroga delle tasse sospese nel post-sisma alle imprese dell'Aquila non basta, bisogna tornare a bussare alla porta dell'Europa. A garantire la prontazione del governo italiano sulla questione della restituzione di quasi 100 milioni di euro di tasse sospese perché ritenuti aiuti di Stato dall'Unione Europea, è il sottosegretario con delega alla ricostruzione Vito Crimi, intervenuto nella seconda giornata di officine all'Aquila in corso all'auditorium del Castello. Ma tutto ha rimandato a dopo il voto per il rinnovo delle istituzioni europee, forse si tornerà dunque a parlare di terremoto e del salasso che rischia di abbattersi su 300 imprese nel prossimo autunno, quando nel Parlamento Europeo siederanno finalmente tutte le figure di riferimento. La proroga non è sufficiente ma come avevamo già annunciato in precedenza sono state già avviate le interlocuzioni con il Parlamento Europeo, con la Commissione Europea, anzi in questo caso. Stiamo aspettando il nuovo Parlamento Europeo, la nuova Commissione Europea per cercare di mettere una pezza agli errori fatti dai governi precedenti perché non c'è stata una parola quando la Commissione Europea ha dichiarato il livello del de minimis a 200 mila anziché a 500 mila, non c'è stata una sola parola da parte del governo italiano. Intanto procedono le interlocuzioni con le popolazioni, non soltanto quelle colpite dal sisma del 2009, ma anche quelle dei territori dei più recenti crateri sismici, dove cresce il malumore e si chiede una maggiore presenza delle istituzioni dello Stato. Ho finito l'incontro, vado a Monte Reale, sono stato a Città Reale settimana scorsa, vado a trovare dei comuni che spesso sono dimenticati, perché magari ci ricordiamo solo dei grossi comuni o dei comuni che hanno avuto visibilità mediatica, sono tanti piccoli comuni che pagano questi ritardi. Li vado a trovare per capire, per sentire direttamente dal sindaco, direttamente dai cittadini che cosa c'è che non va, e per cercare di risolverlo. Porto con me, ovviamente i responsabili degli uffici speciali, per cercare di affrontare i singoli problemi. Nessun passo indietro, inoltre spiega Crimi, sul destino di Radio Radicale. Ieri è arrivato lo stop alla convenzione, decisivo è stato proprio il no dei 5 Stelle. Personalmente non c'è nulla contro Radio Radicale, non voglio chiudere Radio Radicale, non è mia intenzione di fare nulla contro Radio Radicale. Io dico, non è rinnovata la convenzione, punto, questo è il punto di partenza. È una radio privata, ha un suo editore, il suo editore, come tutti gli editori, quando ha una struttura la mantiene, come fanno tutti gli editori. È un SPA l'editore di Radio Radicale, vorrei ricordarlo.